marzo a bello di a bello di casa wikuchi comunque sta modalità playground a me non viene voglia di giocare lo sai le solo così perché mi piacerebbe giocare qua tutto il giorno oggi abbiamo fatto una cosa fighissima che spoilererò sul canale di capo di posti giorni e abbiamo fatto nuketown riprodotta qua 2v2 figo allora a ti dico una cosa metti un piano così come ho messo io così che sto buttando i materiali di più così non sbaglio a così come l'ho fatto ora io così e quando nome dall'altro lato c'è accanto le devi mettere a sinistra o a destra del mio non di fronte perché noi ci incrociamo ok così partiamo alla base della scala ok marzo e 40 e non ho capito che cosa dobbiamo fare facciamo a vai ok no mi sono incartato bravo marzo aspetta che tu ricarica di pompa ma provo a fare una cosa particolare sarà molto difficile e forse ci muoio per fare questa cosa che può fare una cosa particolare quando dimmi tu quando vuoi andiamo ai 25 allora siamo ai 25 ok ah porca troia bravo 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 bra no no vabbè ma Marzo ci sta io ti sto guardando come stai giocando stai facendo bene il punto è che tu avendo il pump devi riuscire a salirmi sopra di me perchè il pump è più lento quindi non si presta per gli scontri veloci ok Marzo aspetta ok andiamo ai 10 vai ci siamo ci siamo ah si è partito in ritardo non posso ridare mi si è buggato il gioco Marzo non mi si era buggato l'edit qual è il mio non fanno sono morto ciao Marzo sei caduto e mi hai messo il muro mentre saltavo mi hai fatto cadere bravo Marzo sei fatta a po' no 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 mi hai messo il muro tu mi hai messo il muro tu vabbè sei stato bravo oh cazzo ok ecco pure tutto a posto tutto normale siamo a 40 yes vai no merda eh mi hai fatto la scala sotto oh Fox sei un mostro sei il giocatore più forte del mondo come cazzo hai fatto quella cosa non so perché mi sta buildando con quell'altro coso Joe ok oh cazzo avevo messo stavo cambiando oh oh che cazzo fai là oh no 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 editato mostro dove cazzo è scendere scendere oddio oh cazzo oh no ma pensavo ci rompesse prima la scala prima di rompere me buonasera bella ci sta no sei un fenomeno vieni a fare un po' è veramente un fenomeno cazzo cazzo io vado a cagare ma tu sei un mostro non ti ho proprio visto a un certo punto ok ho fa k eh si una per f sandra mo ti faccio cadere ah puoi farlo eh no non ci credo mi sono mi sono oddio 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 ti ho editato mi sei caduto dentro no che culo bravo marzo bravo bravo ebbè che vuol dire da fuca mi sei entrato proprio dentro vai usciamo usciamo che andiamo da blink scusa chi è l'orsetto ah l'orsetto blinca ah 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 ho confuso le persone vi dovete prima incrociare e poi iniziate a spararvi ah oh ok non incrociate e iniziate a sparare uh crispy vale qualsiasi cosa non devi editare non posso editare sono chiuso io non posso e che spacca devi spaccare uno di vita what the fuck io l'ho smesso di sparare a un certo punto ho detto ok what the fuck uno di vita non c'era la vita del manzo uno 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 vai 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 io prima mi sono scordato di prendere sono partito in un fight con ho fatto clickbait porca droia guarda che merda che sei uomo di merda guarda che uomo di merda ci dobbiamo incrociare prima non mi puoi sparare ci dobbiamo incrociarmi guarda ma eravamo paralleli no scusa sei un uomo di merda una e due ti devi incrociare e poi girare ah ah allora e qua e qua si ritorna all'elementare in cui Marta batte blink blink batte power Marta batte power esattamente quando si incrociano le scale eh si ma non quando si toccano tu devi incrociare e girare perché così ognuno perde la direzione dell'avversario la merenda è mia ah ah non l'avrai ah potremmo fare così allora due rampe di scale mi ti fa ho visto che fa così si è vero è vero loro fanno così e due rampe di scale eh si perché se tu ti incontri e stai così vicino cioè tu puoi saltare sulla sua scala capito o se no volete fare una cosa tipo far west cioè sto girati tipo no parti no parti da 50 secondi a buildare o quanto cazzo ti fare e hai 55 per esempio ideologicamente puoi sparare no no ma facciamo come hai detto tu no va bene va bene due rampe di scale dopo è meglio ancora più fair vai 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 ok vai oh cazzo mezzo di merda tranquillo tranquillo aspettato aspettato eh ma quello è il bello essere bravi oh bello oddio mamma mia però bello qua rega eh non avete idea in quanto poco si è creata questa cosa gg gg aspetta non c'ero non c'ero non c'ero vabbè non c'ero nemmeno io vai tra vai tra stavo parlando eh io tu considera che scusa cioè non ero neanche stavo vai tranquillo vai 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 allora 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 io ci sono ora aspetta mi devo buttare il metallo non l'avevo notato ok ci sono ora ci devi dire perché hai fatto la super vaffanculo uno due mamma mia mamma mia no non vi vedo più che cazzo stai ma sta scendendo sempre di più giù no in realtà che cazzo hai detto non lo so non lo so ci vedono i due attenzione il sta al colpo l'edit da parte di che però credo di aver evitato e rimesso dritto il tuo no 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 tu era il mattone hai evitato quello no 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 ma ho evitato e annullato in realtà ambassardo ti curi pure infame infame che sei altro ve ne vediamo entrano i colpi di power blink è costretto a scendere cade giù prova di stare infame che sporco o comunque ti ho perso ti ho perso proprio blink non ti trovo più eh ero sotto oh stavo impazzendo a un certo punto sono quasi un po' imbarazzato dal fatto che io da questa distanza non sento i rumori di voi che bigliate e la nuova dietro da un momento all'altro e non me ne accorgerei sì è così ora allora quando siete redi io sparo con la pistola ok andatemi un secondo e voglio salire proprio per vedervi bene ok ce l'ho la posizione aspetta ok vi dico io quando sparo ok pezzo di merda è sparato non hai detto ce lo dici tu vabbè ho sparato eh hai detto ci dici tu quando spari quando sparo oh attenzione attenzione oh fuori duro iiii peri peri qua oh 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 che bello scontro ragazzi sono lentissimo wow GG GG mi è piaciuta questa credo GG ragazzi bellissimo veramente ragazzi veramente bello da vedere da fuori cioè ho stretto il culo tre volte io per voi vi lascio la roba dobbiamo far veloci vai quando vuoi faccio io grazie a tutti oh attenzione madonna santo io ho il vizio di cadere da solo è notato mi ha preso il colpo sono io comunque ti devo dire una cosa ho sparato a power pensavo fossi te ho sparato a Giorgio io stavo costruendo per vedervi ero convinto fossi te infatti non capivo ma chi cazzo mi sta sparando un HP mancava